Il Financial Times, che è il quotidiano più autorevole d'Europa, dedica un editoriale al Summit, il Summit di Silvio, dicendo che bisogna avere le aspettative basse perché Berlusconi ha fatto poco per prepararlo, i precedenti dal suo punto di vista come statista internazionale fanno poco sperare e quindi questo Summit non produrrà molto, anzi quasi niente. E' analoga alla previsione del Guardian di Londra che addirittura dice che c'è una delusione senza precedenti dagli altri leader del G8, dagli altri partner dell'Italia perché l'Italia non ha preparato un'agenda per il vertice, tanto è vero che è dovuta intervenire, secondo indiscrezioni, l'America con i suoi Sherpa per offrire in extremis all'ultimo momento un programma per cercare di salvare questo appuntamento. Il Guardian cita voci, indiscrezioni, secondo cui l'Italia potrebbe addirittura essere espulsa, qualcuno lo avrebbe proposto, espulsa dal G8 e sostituita dalla Spagna, che ormai ci ha sopravvanzato dal punto di vista del PIL e che viene considerato un paese più serio. Linea si esprime anche il Washington Post, il giornale americano, che si domanda se il Summit, l'unico dubbio, dice un articolo, quante gaffe commetterà Silvio Berlusconi. Su questo argomento dei suoi problemi privati il Daily Telegraph, altro influente quotidiano di Londra, pubblica una grandissima foto in prima pagina di una bella donna con un abito traforato sotto il quale si indovinano le sue forme, con un titolo che dice così quale leader europeo porterà questo ministro pieno di glamour al G8? Il ministro è Mara Carfagna, ministro delle pari opportunità e poi a pagina 3 si dice è Berlusconi che, non potendo portare sua moglie Veronica, che ha chiesto il divorzio, fa fare le veci di First Lady, oltre che la moglie del presidente napolitano, alla Carfagna.